Bentornati su Dimiostec, oggi vedremo il pattern circolare per costruire le scanalature intorno a questa manopola. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto e lascia un bel mi piace a questo video. Ok iniziamo la modellazione disegnando il profilo di base, clicchiamo su create sketch e selezioniamo il piano xz, premo il tasto c sulla tastiera, mi posiziono sull'origine e imposto 35 mm come diametro, premo stop sketch. Ora dovremmo fare un'estrusione verso l'alto di questo profilo ma dal momento che la manopola avrà la parte superiore con un diametro maggiore rispetto alla parte inferiore andrò a creare un offset plane ad altezza esattamente 40 mm che è l'altezza che vogliamo dare alla manopola e su quel piano andremo a disegnare il profilo superiore della manopola. Sotto il menu construct selezioniamo offset plane, l'offset plane partirà dal profilo appena disegnato e sarà spostato verso l'alto di 40 mm. Ora disegniamo uno sketch esattamente su questo piano quindi create sketch, seleziono il piano e qui sopra creo con il tasto c un cerchio con diametro 45 mm. Premo il tasto stop sketch. Ora esattamente come abbiamo visto nel video dell'adattatore tubolare andiamo a creare un loft quindi un'estrusione che connetterà il profilo di base con il profilo superiore. Sotto il menu create selezioniamo loft e andiamo successivamente a selezionare il profilo di base e il profilo superiore. Premiamo sul tasto ok e abbiamo la forma veramente base della manopola che vogliamo andare a modellare. Ora pratichiamo un raccordo premendo il tasto F sul profilo superiore di 5 mm e premiamo il tasto invio. Adesso arriva la parte più interessante della modellazione. Dobbiamo andare a creare le scanalature classiche che troviamo su tutte le manopole. Iniziamo con modellarne una, creiamo uno sketch sul piano superiore della manopola, mi avvicino un po' con la rotella, premo il tasto C e vado a disegnare una circonferenza esattamente sul bordo della manopola sull'asse X. Imposto come diametro 8 mm e premo invio. Clicco su stop sketch e poi sulla casetta in alto per tornare sulla visualizzazione di base. Premiamo il tasto E per entrare nel comando estrusione, selezioniamo la circonferenza piccola che abbiamo appena creato, dopodiché all'interno di extent sulla destra selezioniamo il comando all. Premiamo poi sul tasto flip per invertire la direzione di estrusione e come vedete ci segnala in rosso la parte che verrà tagliata. Premiamo sul tasto ok e abbiamo creato la prima scanalatura. Pratichiamo ora un raccordo sul profilo esterno della scanalatura. Premiamo con il tasto F e selezioniamo il bordo della scanalatura. Qui impostiamo 2 mm come raccordo e premiamo invio. A questo punto dobbiamo replicare tutto quello che abbiamo fatto per la prima scanalatura più volte seguendo il profilo circolare della manopola. Chiaramente non dobbiamo andare a ripetere manualmente tutte le operazioni. Fusion può darci una mano con il comando pattern. Il comando pattern lo trovate sotto il menu create. Potete trovare le tre tipologie di pattern possibili. Il pattern rettangolare che è quello che duplica feature facce oppure corpi seguendo una forma rettangolare quindi secondo una larghezza e un'altezza. Il pattern circolare che è quello che utilizzeremo in questo caso e infine il pattern seguendo un percorso. Seleziono quindi circular pattern. Mi si aprirà sulla destra come al solito la finestra dei parametri di questo comando. All'interno di pattern type dobbiamo selezionare la tipologia di elemento che vogliamo replicare. In questo caso vogliamo replicare delle features ovvero vogliamo replicare l'estrusione e successivamente il raccordo. Quindi seleziono direttamente dalla timeline in basso premendo il tasto shift il simbolo del raccordo e il simbolo dell'estrusione. Come vedete Fusion colora in azzurro tutto ciò che abbiamo selezionato. Poi mi sposto qui sulla destra clicco su questo tasto select a fianco alla voce axis per selezionare qual è l'asse attorno al quale deve essere creato questo pattern circolare. Nel caso del pattern circolare posso anche direttamente selezionare il profilo circolare intorno al quale andare a fare le scanalature e a questo punto non mi resta che selezionare la quantità di scanalature da creare. Il valore di default che Fusion ci dà è 3 in questo caso aumentiamo a nostro piacimento. Nel mio caso ne faccio 8 e premo ok. Come vedete Fusion ha replicato completamente tutto quello che avevamo fatto per la prima scanalatura. Il vantaggio di aver utilizzato il pattern circolare è quello che posso sempre tornare indietro e modificare i parametri che avevo impostato per la prima scanalatura. Supponiamo che io volessi fare le scanalature leggermente più strette quindi mi basta andare a fare doppio clic sul simbolo dello sketch che avevamo utilizzato come base di partenza, fare doppio clic sulla quota della circonferenza, impostare 6 mm e premere stop sketch. Fusion ha ricalcolato automaticamente tutte le feature create a partire da quel punto nella timeline. Quindi lo rimettiamo come stava prima, doppio clic sulla quota, 8 mm, stop sketch. A completare questa manopola andiamo a praticare uno scavo sulla parte superiore e il foro nella parte inferiore. Create sketch, seleziono la faccia superiore, premo il tasto C sulla tastiera, disegno una circonferenza centrata sull'origine di diametro 25 mm. Premo stop sketch e sulla tastiera per estrudere porto questa circonferenza in basso di 2 mm. Ora pratico un raccordo premendo F sul profilo esterno di 2 mm e premo ok. Step finale, ci spostiamo sulla faccia inferiore, create sketch, seleziono la faccia inferiore, sempre tasto C sulla tastiera e vado a disegnare la circonferenza che sarà il foro di montaggio di questa manopola. In questo caso la farò da 10 mm. Chiaramente dipende dall'applicazione che volete dare a questa manopola. Premo il tasto E e scavo all'interno di quello che mi occorre, in questo caso meno 20 mm e premo ok. La modellazione è terminata, questa manopola può essere stampata tranquillamente come la vedete posizionata a video. L'unico problema che potreste avere è il foro in basso chiaramente perché ha necessità di supporto. Qualora volesse stampare senza supporti questo modello occorre andare a eliminare questo spigolo vivo nel foro che abbiamo praticato nella parte inferiore. Un modo intelligente per farlo è andare a fare un chamfer che imposti una pendenza di 45 gradi che consente alla vostra stampante di ricreare questo pezzo senza necessità di supporti. Facciamolo subito all'interno di modify troviamo chamfer, selezioniamo il profilo superiore del foro, qui sulla destra all'interno di chamfer type selezioniamo distance and angle, l'angolo è impostato a 45 gradi e andiamo con la freccia verso l'esterno finché non si elimina lo spigolo che avevamo prima. Premiamo ok e la modellazione è completa.